Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi Flysky e iBus nel flight controller iFlight F405 versione 2.1. Questo tutorial è valido per la IA6B, la X6B, la A8S, la FLIC14+, ed in linea di massima per tutte le altre riceventi Flysky con protocollo iBus. Questi riceventi infatti vanno collegate tutte nello stesso modo, usando Terra, Positivo e Segnale Bass, vediamo subito che cavi usare e dove collegarli. Per la IA6B ci serve un connettore servo da collegare qui in alto a destra. Fate in modo che segnale, positivo e terra siano messi in questo modo. Per la X6B usiamo il cavo che ci viene fornito in dotazione, e lo colleghiamo in questo connettore JST, in modo che il segnale sia in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Anche con la 8S usiamo il suo cavo, questa volta rimuoviamo il filo PPM e teniamo solo Terra, Alimentazione e iBus. Per la FLIC14+, abbiamo solo un connettore quindi non c'è da sbagliarsi, come sempre abbiamo Terra, Positivo e iBus. Passiamo ora ai collegamenti, qui possiamo scegliere se saldare i fili nella parte superiore della scheda, o usare i connettori che si trovano sul fondo. Io vi faccio vedere entrambi i modi, poi scegliete voi cosa preferite. Partiamo dal caso più semplice che è anche quello che vi consiglio di fare, ovvero usare i connettori. L'F405 viene venduta con una vasta scelta di cavi che coprono tutte le esigenze, compresa quella di collegare una ricevente iBus. Tra tutti i cavi che ci sono individuiamo questo in particolare, lo riconosciamo perchè è composto da 3 fili ed ha un connettore JST a 3PIN da una parte, e una 4PIN dall'altra. Questo cavo è perfetto per le riceventi iBus. A questo punto sarà sufficiente collegare le estremità a 4PIN in questo connettore della scheda, usando 5V, Terra ed R4. L'estremità a 3PIN invece va collegata nella ricevente usando gli ingressi che abbiamo visto a inizio video. Se invece avete una IA6B, tagliate il connettore a 3PIN e unitelo ad un connettore servo facendo attenzione a rispettare l'ordine dei fili e non invertire le polarità. Vediamo ora come procedere nel caso vogliate saldare i cavi direttamente sulla scheda. I pad ideali per collegare le riceventi iBus sono questi 3, R4, 5V e G, si tratta dei 3 pad del connettore che abbiamo usato in precedenza. A questo punto sarà sufficiente stagnare questi pad e saldare i fili corrispondenti, iBus su R4, positivo su 5V e Terra su G. Molto bene, dopo aver collegato la ricevente nel modo che preferite possiamo avviare Betaflight e procedere alla configurazione. Questa sarà identica in tutto e per tutto sia che avete collegato la ricevente nel connettore sia che avete saldato i fili direttamente nella scheda. Una volta avviato Betaflight la prima cosa da fare è andare in Ports e assicurarsi che Serial RX sia attivato nella riga della UART4. Di default è nella UART2, quindi toglietelo da qui e mettetelo nella 4. A questo punto salviamo. Adesso andiamo in configurazione e in questo menu scegliamo Serial Bused Receiver. Nel menu a tendina sotto scegliamo iBus. Non dimentichiamoci di salvare. Per concludere andiamo nel tab radiocomando per vedere se la ricevente risponde agli Input. Perfetto, è tutto ok. Se i comandi sono invertiti andate in Channel Map e cambiate AETR1234 con TAER1234 o viceversa. Le riceventi con RSSI si notano perchè hanno una barra 2000 circa, di solito è nell'AUX10 ma potete trovarla anche su un altro AUX a seconda del sistema che usate. In ogni caso andate su RSSI Channel e selezionate l'AUX con la barra 2000, nel mio caso quindi devo scegliere AUX10. Vi ricordo che se avete selezionato l'RSSI nella pagina precedente qui dovete lasciare disattivato RSSI Analogico, in quanto va in conflitto con quello Flysky. Il resto delle configurazioni le fate in base alla componentistica che avete montato sul vostro drone. Perfetto, la ricevente è collegata e abbiamo configurato Betaflight in modo che venga riconosciuta, non c'è altro da fare. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione, o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.